Io la domenica non parlo, devo rivedere la partita, devo analizzare le situazioni, poi il martedì si parla con i ragazzi. A mente fredda sicuramente Renato Bartoli avrà rivissuto le emozioni e i motivi di rammarico del K.O. Casalingo del suo Molfetta contro il Casarano. Il 2-1 del Poli è maturato al termine di una partita dai due volti. Il primo ha visto i padroni di casa sfiorare il vantaggio per poi trovarsi sotto di due reti al settantesimo. Il secondo è stato caratterizzato da un Molfetta arrembante, capace di dimezzare lo svantaggio grazie al gol di Leonetti sul rigore e di spiorare anche il pareggio con quella chance capitata da tre metri sui piedi di Tedesco nel diluvio torrenziale che si è abbattuto sull'impianto Molfettese nel finale. È stata probabilmente la migliore partita che abbiamo fatto finora. Noi stiamo attraversando un buon periodo e lo ha dimostrato anche la partita di ieri. Probabilmente l'intensa pioggia del secondo tempo ci ha notevolmente influenzato negativamente perché stavamo giocando sul palleggio, sul ritmo e stavamo mettendo in serissima difficoltà il Casarano. È una battaglia come tutte le gare. Questo campionato, questo girone, come vedete ogni domenica le partite sono legate ad un filo. C'è molto equilibrio, infatti lo dimostrano i risultati ogni domenica. Però sinceramente i ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno del gioco non mi sento di rimproverare nulla. I ragazzi contro il Casarano hanno fatto una grande gara. Abbiamo creato tante pallegol, peccato per quei piccoli episodi che purtroppo hanno influenzato il risultato in maniera negativa. Ma sotto l'aspetto della prestazione della partita il Molfettese ha fatto una grande gara. L'input alla squadra è ripartire dalla prestazione con l'obiettivo di allontanare quanto prima la zona rossa della classifica. Il Molfetta oggi è a quota 13 punti nel girone H di serie D e nello specchietto retrovisore ci sono tre vittorie conquistate nelle ultime cinque gare di campionato. La sensazione è che a determinare il cammino dei biancorossi Molfettesi sarà il rush finale del girone di andata che per Longo e compagni coinciderà con le trasperte sui campi di Martina, Nocerine e Afragolese e con i confronti casalinghi contro Brindisi e Tim Altamura. Tanto passerà anche dal calciomercato e dalla capacità di blindare i migliori giocatori in organico, trattenerli in squadra e l'idea che guida la dirigenza del Molfetta. Faremo sicuramente un incontro con il mister tra giovedì e venerdì in cui prenderemo delle decisioni e di conseguenza il mister farà quello che resterà più opportuno. Alla fine non siamo neanche tanto distanti dagli obiettivi che volevamo mantenere quindi credo che l'idea di massima sarà sicuramente quella.